Perché non c'è stata una sola promessa, un solo impegno che io abbia assunto nel 2001 e non l'abbia realizzato nel governo dal 2001 al 2006, è la stessa cosa per gli impegni assunti nel 2008. Poi ci sono le grandi riforme che sono necessarie per il nostro Paese, la riforma completa del fisco, la riforma della giustizia ed altre ancora, la riforma della burocrazia, che non si sono potuti assumere per due motivi. Il primo, che nella maggioranza avevamo dei piccoli partiti che ragionano sempre non guardando all'interesse generale, ma soltanto al loro particolare interesse, che si identifica con l'interesse e con l'ambizione politica dei loro piccoli leader e secondo, perché il governo italiano non ha quei poteri che hanno le altre democrazie occidentali. Ed è per questo che noi chiediamo agli elettori di far convergere i loro voti su di noi, per poter avere una maggioranza che si consenta di cambiare la Costituzione, dando al governo e al Parlamento quei poteri e quei tempi che hanno, appunto, le altre democrazie occidentali. Chiarissima.